Presidente Capuano, qual è la situazione attuale della Budona 1902? La situazione attuale è che questa settimana ci sono stati incontri continui con l'amministrazione per risolvere il problema che io ho sempre manifestato, cioè praticamente quello degli sponsor per andare avanti. Mi sono incontrato tra tutti questi incontri, oggi ho la certezza perché mi hanno fatto incontrare anche con gli imprenditori, quelli là che si sono resi disponibili per gli sponsor, la cosa a breve si sbloccherà. Quindi io in un comunicato che penso che non più tardi di qualche ora uscirà, ritirerò le mie dimissioni per andare avanti e per fare sì che questa squadra faccia un bel campionato. Un bel campionato intendo sempre con una salvezza tranquilla. Ho già chiuso un accordo con Emanuele Marzocchi, centrocampista, col difensore Massimo Russo, che già da domani saranno disponibili con la Rosa. E qualche altro giocatore, si pensa forse anche a qualche attaccante? Sì, spero che nella giornata di domani di chiudere pure per l'attaccante, per trovare un attaccante che faccia il nostro caso. Spero nella giornata di domani di chiudere pure per l'attaccante. Domenica c'è la Capese, arriva dopo una settimana tripolata, però a volte nei momenti difficili le squadre, insomma le vere squadre. Sì, ho parlato come infatti una mezz'ora fa con Pasquale Izzo, che praticamente oggi rappresenta lui il capitano, ho parlato con lui. Gli ho detto che da domani ci dobbiamo concentrare sulla partita, dovrà essere una partita che dovranno dare di più, perché dopo tutto questo casino che è successo questa settimana, quindi loro si dovranno impegnare di più per far sì e per far riavvicinare i tifosi e tutti quanti. Ai tifosi che cosa senti dire da oggi? Ai tifosi sento di dire praticamente di starci sempre vicino, perché le difficoltà come vedono sono quotidiane, di andare avanti. Però io se vado avanti ho la forza di andare avanti, è proprio al loro sostegno che mi danno giorno per giorno.